Grazie Presidente. La proposta della Commissione giunge quanto mai opportuna per modificare le disposizioni relative agli strumenti di condivisione del rischio per gli Stati membri che rischiano di subire gravi difficoltà a causa della instabilità finanziaria. E giunge quanto mai opportuna in un momento di questa grave crisi economica per cui paesi come l'Irlanda, il Portogallo, l'Ungheria, la Romania, la Lettonia e soprattutto la Grecia vedono in questa modifica del regolamento degli strumenti di condivisione un'alternativa al rischio della perdita dei fondi già assegnati. E' la possibilità quindi di proseguire i programmi confidenziati dal Fondo di Sviluppo Regionale e dal Fondo di Coesione che stanno trovando difficoltà nell'attuazione in questi Stati membri. Si traduce quindi tutto ciò nell'esecuzione di progetti e nella conservazione di posti di lavoro nella rete dell'Unione Europea maggiormente toccate dalla crisi economica, senza intaccare in alcun modo il bilancio dell'Unione Europea ma dando un sostanziale contributo verso la crescita di questo continente. Grazie.